Benvenuti in una nuova mappa di Fortnite davvero interessante Come potete vedere siamo in una foresta Abbiamo come equipaggiamento il rampino, le doppie pistole e l'arco E Fere dirà, ma come vai Stef? E io dirò, perché? Eh sì, un po' lo stavo pensando Perché siamo nella mappa dedicata a Tomb Raider Ah, ok Dove però ci sono zombie? Non so perché Fere In ogni caso, quest'oggi facciamo Nascondino Kill di zombie e kill tra di noi Quindi una mappa che permette di fare un po' di tutto E noi ne approfittiamo per fare un po' di tutto In ogni caso la livrea di queste nuove armi è bellissima L'ho provata a mettere sulle pistole E le doppie pistole sono fighissime così Quindi sono molto felice di averla messa E direi di iniziare Cosa vorresti iniziare Fere? Quello che vuoi Stef Che paura Allora Io al momento sto cercando di ambientarmi Sto guardando un pochettino il posto Perché ovviamente è immenso Sì, è tutto alberoni ed è totalmente immenso È una cavola di foresta gigante Tutto alberi Ci si può nascondere infatti in un bel po' di posti Credo che questi alberi però diano infatti la fine della mappa Perfetto così Sì, ho notato pure io Mi è chiaro anche con il confine Opla, ciao zombie Lasciatemi in pace Tanto c'è il rampino Io non so neanche dove sono gli zombie Non so dove stai te È pieno di zombie Aspetta mi sembra di averti sentito Può essere Sto usando il rampino tantissimo Solo che è talmente pieno di alberi Che è difficile muoversi Bisogna far Tarzan Allora, cosa facciamo? Uccidiamo gli zombie? Uccidiamo gli zombie? Oh, sto qua al centro Ma io farei nascondino invece Ok, vai Con gli zombie è un po' difficile perché ti seguono Esatto Però Stef, dobbiamo incontrarci E poi dici, cioè, uno sta fermo e l'altro si nasconde Perché sennò è difficilissimo No, 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 no Ti sento però È come se fossi sopra di me Ma sei sopra gli alberi o no? Sì Come sì? Sì È totalmente sopra gli alberi? Dai, ti sento Cioè, sento rumori ma non ti vedo Ah, ma perché qua ci sono anche degli zombie Che stanno facendo un po' di casino Però sono sicura di aver sentito il rampino Allora, puoi andare Inizia a cercarmi Ci sono otto minuti di modalità Quando ne mancheranno cinque Ma ho visto che sei sopra un albero Me l'hai detto Ti sei spostato Eh, cerca, cerca No, ho guardato il tuo schermo Perché volevo vedere dove eri Anche se non so quale sia l'albero Cerca Va bene E poi perché hai guardato il mio schermo? Perché dovevamo raggiungerci, Stef Ma che ti voleva? Ma io ti ho detto Raggiungiamoci e poi partiamo Ma chi ti ha detto ok? Tanto non mi trovi lo stesso Tu mi hai detto ok Però tu sei in questa zona Perché se io ti sentivo qui in zona Eh, ho visto Tanto non mi trovi Non fa stare in mezzo agli alberi un incubo Eh, lo so Cioè, anche sapendo che sei sopra un albero Non ti trovo lo stesso Incredibile Sono diventato una pera Eccoti Ti vedevi da sotto Dire la verità, Stef Il rosso un po' Sembravi una mela, capito? Non era una cosa ottima Sì, ma perché mi hai guardato? Hai rovinato Vai a nasconderti di nuovo Era un nascondiglio bellissimo Perché era ovvio, Stef Che ci dovessimo perlomeno incontrare Non puoi girare tutta questa mappa Esageratamente grande Ma poi ci sono degli alberi Che sono davvero troppo giganti Comunque Appunto Allora Ti stai nascondendo tu? Sì Ok, vai Adesso sto ferma Ma non so che ti stai nascondendo Che male Allora Dove mi posso nascondere? Non in un albero, Stef Non in un albero Ok Allora Vediamo allora un po' di edifici Ciao zombie Dovete stare calmi voi Dovete stare calmi Dovete stare calmi Calmissimi Ok Not bad C'hai fatta? Sì Vado? Sì Come sei sembrato convinto Che poi certi edifici Ti dà la sensazione di poterci andare Lo so Invece tutto il confine della mappa Va da un fastidio Perché tu punti il rampino Invece non prendi nulla Allora Secondo me questo nascondiglio A fare non lo può trovare Vediamo un pochettino Vediamo dove ti puoi essere nascosto Allora Nella zona degli zombie Non credo perlomeno Non al centro Perché ti seguirebbero Ok Quindi sarebbe anche palese Capire dove stai Qua sento degli zombie Eeeh Calmi Che paura Che paura Che paura Stanno distruggendo gli zombie Ma cosa è il rampino? Eh ma devo controllare In Anche in terra Nei posti Perché tu puoi essere nascosto Ho capito Ma ti puoi muovere col rampino Per schivarli No perché era la fine della zona Quindi ero incastrata in un angolo Ma adesso ci sono Steph Eh Questo sei stato tu Ma erano zombie Fere No sei stato tu con l'arco Erano zombie Tanto non capisci dov'è vero? Perché non fa rumore No ovviamente Però ho capito più o meno la direzione Ok E quindi eri comunque in alto Ok E mi hai sparato alle spalle Quindi dovevo essere per forza Questa direzione Ok Come va a fare? È orribile sto posto per il nascondino Orribile in senso buono Perché è davvero difficile È super fitto Quindi è un casino sia muoversi che cercare Ciao Steph Porca miseria Però avevo ragione Dai ti sei Ti sei tradito con l'arco Steph E vabbè volevo farti male Ma devo rendere Mi hai fatto male cavolo eh Vado a nascondermi io? No No Ah non No Perché non mi posso Perché a me tocca solo cercare E non posso fare le parti divertenti Allora usciudiamo gli zombie Allora vai Eh da dove vuoi partire? Vabbè partiamo dal Dobbiamo distruggere tutti gli spawn di zombie E killarli Ma non ci sono tanti zombie in giro eh Beh insomma eh Mi hai sfannato un boss Bene Eh io sono dall'altra parte Non so dove sei Steph Ah ecco vedo il boss Arrivo Eh sai perché normalmente non ho problemi Ma con un arco e doppie pistole un pochino sì Sì assolutamente Non sono le armi migliori Dai 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 Però le doppie pistole sono belle eh Ma anche l'arco Perché se fai l'headshot fa 300 Infatti E tanta No vabbè c'è un altro Ma che sfiga Dopo il fight con gli zombie Ci sarà il nostro fight Per scoprire chi è il Tomb Raider più forte Ahia che male Che succede Chi ti ha picchiato? Dalle spalle Mi sono arrivati questi due Dobbiamo distruggere gli spawn Altrimenti non ne caviamo piede Lo so Tutti i giganti dovete nascere da questi spawn Mi sa che non li ha impostati su casuali Perché ci sono troppi grossi Vabbè non ce ne sono tantissimi Quindi non ho messo uno spawn esagerato Però sono belli cattivi quelli che ci sono Quindi è anche giusto Occhio Ok Ok È fortuna che mi trovo bene con le doppie pistole Perché l'arco non è troppo adatto Per questi momenti No l'arco no È un po' lento Ovviamente quando c'è una massa Sono molto meglio le doppie pistole Ok Altri ne vedi? Allora io ne avevo visti altri Tipo dalla parte destra Verso in quella direzione Verso quei templi Mi pare di averne visti altri Questo qui? Sono quasi sicura Ma cavolo ma è super nascosto questo Che poi li stiamo killando Ma quando fighteremo Fere Restartiamo la mappa Perché dura solo 10 minuti E quindi dovremmo fightare in mezzo agli zombie Vabbè ci sta Aggiungere casualità Già Ok Mi sa che abbiamo liberato la foresta Abbiamo fatto Fere Sì abbiamo fatto Io ti direi Andiamo di fight Quindi dobbiamo fare Non ero io Era uno zombie Cioè Ho premuto il tasto in quel momento perfetto Altrimenti mi killavi alle spalle Come i vigliacchi Infatti è stato bellissimo Complimenti Eh brava 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 Io mi tanto mai ricordo Puoi giocarte la stealth Puoi giocare l'offensiva Puoi fare quel cavolo che ti pare Non lo so Steph Vediamo un po' come Come mi sento di giocare Ok Oh cavolo Adesso l'ho troppo inseguita Alla gli zombie Arrido Più o meno La sento sparare Alla gli zombie Eh beh ovvio Quello lo voglio far fuori Ok Ti ho sentito per un attimo Che anzi Con il trampino Ok Allora facciamo chi vince Con tre kill Mi sembra che vada bene Odio gli zombie Raga Non vedo nulla Fanno capire dove sei È una cosa orribile Però la cosa divertente È che comunque È parecchio casuale Questa mappa Mi sta mettendo un'ansia Mi sta mettendo un'ansia Perché poi sento rumori Degli zombie Non so se sei tu Non so se sono gli zombie Che ansia Ci sono rumori Troppo brutti Ahia come hai fatto Mi chiamavano Robin Hood Altro che Tomb Raider Ok Vabbè È praticamente orribile Combattere questo Però perché c'è l'albero Che ti incastra Sì Ma infatti Dove mettersi un casino Ti volevo prendere Dall'altro lato Però l'albero Mi incastravo E all'inizio Non sono riuscito A sparare bene Il primo colpo È stato orribile Allora Lo sapevo che eri qua Che ansia Però è pieno di zombie Mi ha lasciato Quanti ne hai fatti Sponare Maledetto Cavolo Aia Mi sono incastrato Steph Steph Ok No sto ricaricando Vabbè ci stava Ti avevo fatto un sacco Uno a uno Ma fare adesso Con che bassina Sì Era il mio obiettivo Tanto avevo 6 HP fare Per tutto il tempo Esatto E quindi il mio obiettivo Era proprio farti scendere Meno po' Sì lo sapevo No io ormai Sisto un basso Non si può recuperare qua Non ci sono uscito in giro No Non l'ho visto per lo meno Nessuna parte Eh nanch'io non l'ho visto Però ti ne ho tradito Gli zombie Steph Mi hai preso in pieno Con l'arco In mezzo alle scale Cioè Ma hai passato In mezzo agli scalini Il colpo Non lo so Io praticamente Ti ho mirato Perché ho previsto Dove staresti andato Penso che si è passato In mezzo Al Al corrimano Capito Io pensavo di essere coperto Capito No 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 Penso che Non sapevo neanche Potesse passare lì in mezzo Io ho provato a tirare Però È andata così È andata così Cavolo Che succede? Mi sono tolto vita da solo L'arco quando esplode A vicino su un target Ti toglie vita Ma non volevo sparare Con le pistole Per non fare rumore Ci sta Mi ho trovato Un boss di fronte Benzo sta Nascondiglia A saperlo Hai trovato un bel nascondiglia? Sì adesso però Quando abbiamo finito Di nasconderci È diventato a combattere Penso che abbiamo La stessa vita Guarda Quanto hai tu? 70 Totale Tra shield e vita Ah no Io un po' di più C'è figura 111 Sì perché Ti togli 100 da solo Dannato arco È orribile Sta foresta Steph Troppi zombie Che poi è vero Che cosa? Se fai gli zombie Recuperi lo shield Ecco come lo puoi recuperare Cavolo Ne ho appena acceso Uno Ho detto Ops Mi ho aumentato Cavolo Mi sono dovuta Star zitta Così Steph Non l'avrebbe capito Accidenti Questa è un'ottima cosa È davvero carina Questa mappa È davvero Multiuso È molto carina Questa se poi la fai in tanti È bellissima Non lo so Impazzisci anche Ma il bello è quello Magari forse in tanti no Tipo un massimo di 4 Ci sta Ma in 4 va bene In 4 va bene Lo sapevo Ti ho sentito Dove stai? Che faccio? Che faccio? Che faccio? È fai rinno Che le doppie pistole Sono una delle armi Che so usare Mi è andata bene Per le armi della mappa Allora Quindi 2 a 1 Però io continuo a essere basso Spacco anche lo spawn di zombie qua Così Non ci devo più pensare Perfetto Allora Vado in mezzo alle foreste Devo essere Oh ma che sfiga Accidenti Via 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 La sento Sto recuperando shield Voglio più shield Però ti sento Eccoti Doppio colpo Wow Ma dai fa schifo Quell'arco Cioè queste pistole Io non riesco a mirarci Cioè le vedo smiratissime Io le adoro Mi piace Avrei preferito qualsiasi cosa Anche un smg Ma proprio con le doppie pistole Non mi ci trovo Io amo queste doppie pistole Non so perché Ok sfida completata Ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuta Questa mappa Nascondino con gli altri Fight con gli zombie E dopo che fight tra di noi Con per di più L'ultima arma uscita Che comunque era perfetto Davvero è perfetta Per Tomb Raider Perché negli ultimi giochi Saceva sempre vedere Quelle doppie pistole L'arco Quindi è stato un genio Il tipo che l'ha fatta Speriamo che la mappa Vi sia piaciuta Qua sotto e sempre come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao